Il primo trailer della serie televisiva Halo Nightfall, prodotta da Ridley Scott, diretta da Sergio, mimica a Jedzan e basata sul celebre videogames. Protagonista è l'attore Mike Coulter, che interpreta Jameson Locke, super soldato, leader di un esercito spartano e futuristico. Le vicende narrate dal film si svolgono tra gli eventi di Halo 4 e il prossimo Halo 5. La serie Halo Nightfall uscirà il prossimo 11 di novembre in contemporanea con l'uscita del nuovo videogioco di Halo The Master Chief Collection.